Pulizia delle pareti e il disgaggio dei massi instabili, l'installazione di reti metalliche e sistemi di chiodatura attraverso micropali orizzontali, pannelli di reti in funi di acciaio e opere di sottomuratura per garantire la stabilità del pendio. Questi gli interventi previsti che permetteranno di mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta il centro abitato di Racalmuto. È stato pubblicato infatti dalla struttura per il contrasto al distesto idrogeologico della regione siciliana, il bando per la progettazione esecutiva per il consolidamento del versante di via Generale Macaluso nel comune dell'Agrigentino, con un importo complessivo a base di gara di poco più di 80.000 euro. Si prevede infatti la stesura del documento progettuale e per arrivare a questo sono state finanziate le indagini geologiche e una serie di studi e attività. L'obiettivo è quello di individuare le soluzioni tecniche più idonee per la messa in sicurezza dell'area, dove gli ultimi interventi sono stati effettuati nel 2016. Si trattava di lavori di sommorgenza predisposti dal Genio Civile di Agrigento per il ripristino del traffico veicolare e del transito pedonale su via Generale Macaluso. Entro il 19 ottobre si potranno presentare le domande. L'intervento programmato per il quale si gettano le basi, si precisa nel comunicato della regione, ha come obiettivo la tutela dell'area fortemente urbanizzata che ricade all'interno del centro storico a pochi metri dalla Fondazione Leonardo Sciascia, interessata dal massimo grado di rischio R4 e da vari fenomeni di dissesto, come rivelano le lesioni presenti in numerosi edifici e infrastrutture.